La stagione estiva della movida del lungomare pesarese è partita con una vecchia criticità che puntualmente torna a ripetersi se non a peggiorare. Da un lato ci sono i locali che attraggono giovani con intrattenimento musicale che si prolunga a luna di notte come da regolamento comunale, dall'altra ci sono alcuni albergatori che reputano quei volumi troppo sostenuti e non tollerabili per la tipologia di clientela turistica ospitata. Dall'hotel Mare all'hotel Napoleon, per citare due delle strutture che si affacciano ai locali più frequentati, si invita a riflettere su un compromesso che concili ogni esigenza lavorativa. Noi, io volevo precisare che noi non siamo contrari al divertimento dei giovani, assolutamente, abbiamo tre figli anch'io, però vi garantisco che nessuno vorrebbe tutti i locali che abbiamo noi sotto la propria finestra, perché la sera veramente fino a luna uno non può dormire, noi abitiamo qua, se uno volesse invitare qualcuno a cena non si riesce a parlare, vuoi guardare un film una sera, non si riesce. Bisogna cercare di convivere tutti con le esigenze di ciascuno, anche noi abbiamo un'attività da mandare avanti, loro hanno la loro attività, però dobbiamo convivere. Loro sono bar, non sono discoteche. Io non so cosa si sente da loro, ma noi qui riceviamo solo i bassi e anche un tipo di musica martellante che proprio non ti lascia riposare, insomma. Noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo gli infissi nuovi e abbiamo messo anche le tapparelle elettriche proprio per sigillare anche i cassonetti in modo che uno si possa tappare in camera. Più di così non possiamo fare, però la musica si sente lo stesso perché non c'è un controllo dei decibel. Io non dovrei essere obbligata a sentire la musica del locale davanti. Leggo anche su Facebook alcuni commenti, abbiamo soltanto anziani, noi abbiamo più che altro famiglie e una famiglia con dei bambini di 3-4 anni non sta in piedi fino alle 2, non può, non è normale. Loro vengono a Pesaro perché gli piace la città, perché gli piace il mare, perché gli piace, vengono a fare una vacanza di mare, non una vacanza di divertimento notturno. Ed è anche la clientela che noi siamo qui dal 1984 e che con tanti anni di investimenti e di sacrifici, di tempo dedicato all'albergo, noi ci siamo creati questa clientela, non possiamo cambiarla dalla sera alla mattina. La proposta verso la soluzione che si potrebbe avere, come diceva prima mia moglie, è il fatto che si devono creare delle zone dove non danno fastidio i ragazzi, dove possono fare anche delle piccole discoteche, perché alla fine quello che manca a Pesaro sono le discoteche. Noi quello che chiediamo è soltanto di poter fare il nostro lavoro, anche perché siamo costretti a fare gli albergatori, perché noi, non so se tutti sanno, ma gli alberghi hanno dei vincoli, per cui non possiamo decidere domani nella nostra struttura di fare altre cose, di fare appartamenti, ufficio, quello che è. Noi ci siamo bloccati a fare, ci siamo vincolati a fare albergatori. E ci dispiace che un'amministrazione comunale come questa, che punta tanto sul turismo, si trovi poi a cadere su queste piccole cose. Cioè io capisco che bisogna dare priorità al pesarese, però se vogliamo credere in questo turismo bisogna che noi facciamo venire i clienti, ma bisogna che ce li teniamo stretti. E clienti che vengono a Pesaro pensando a una città tranquilla, diciamo, non la caotica Romagna, si trovano poi a verificare invece che alla fine, forse anche peggio di alla Romagna, perché la Romagna sta tornando indietro su queste cose qui. I locali da ballo sono nell'entroterra.